Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri di pronta guarigione ad Antonio Mancini, centrocampista dell'Olimpia Riccia che durante una partita di calcetto qualche giorno fa si è rotto il tendine d'Achille. Questa mattina è stato operato presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso. Quindi un in bocca al lupo di prontissima guarigione e di ritorno perché no all'attività. Un pensiero anche alla moglie di Antonio, ai genitori di Antonio, Franco e Teresa che naturalmente sono stati molto in ansia per questo infortunio capitato al figlio. In bocca al lupo e naturalmente buon rientro all'attività. Per il ciclismo Rino Zampilli della Faga Gioielli Racing Team di Isernia si è laureato campione italiano Master su strada a Gualdo, Tadino, circa 500 gli atleti iscritti alla gara Umbra. Tra i Master 1 Rino Zampilli ha anticipato sul traguardo Vincenzo Pisani e Giancarlo Bertellotti. Grande soddisfazione per la Faga Gioielli Racing Team e per Rino Zampilli al suo primo tricolore in carriera. Campionato di Serie D, il Campobasso con l'ingresso di nuovi soci si convertirà in una società responsabilità limitata. Nei prossimi giorni verranno svelati anche i nomi dei nuovi imprenditori che dovrebbero sostenere il club rosso-blu nel prossimo campionato di Serie D. Campobasso calcistica aspetta con ansia novità e questa che appena iniziata potrebbe essere forse sarà la settimana giusta. Nel corso del mese di maggio sono trapelate indiscrezioni generiche sul possibile ampliamento societario. Di nomi non ne sono circolati per non fuorviare trattative anche ben avviate. Lo staff tecnico comunque ha proseguito un lavoro legato al settore giovanile e alle giovani leve che in Serie D dovranno costituire almeno la metà della rosa e se possibile dovranno anche essere di un certo valore. Previste a giorni delle novità in seno alla società rosso-blu verranno ufficializzati i nomi di due imprenditori che entreranno a far parte della società del capoluogo. È certamente una buona notizia, vuol dire che il progetto Campobasso ha iniziato ad attecchire nel mondo imprenditoriale molisano. Inoltre è calendarizzata pure per questa settimana la conversione dell'attuale tipologia di società in società a responsabilità limitata. Anche questo era un obiettivo sbandierato, le carte sono pronte dunque si può procedere alla variazione di forma societaria. A proposito del parco giocatori rosso-blu abbiamo ascoltato Scudieri che ha partecipato alla prima edizione del Memorial Gianluca Fuso. Scudieri presente al Memorial di Gianluca Fuso. Mi ha accinato chilometri per venire qui a Campobasso. Vabbè sì, è normale, vengo dalla Calabria, però è stata una combinazione, sono trovato qui, sono contento di essere qui per questa causa giusta. Senti, siamo in un periodo un po' distasi dal punto di vista delle notizie per quanto riguarda il Campobasso. Voi che avete riconfermato tutti, presso a poco tutti, una conferma ufficiosa, come state vivendo questo periodo di attesa? No, il periodo di attesa la stiamo vivendo bene perché poi alla fine è normale, la società fa le sue scelte, le sue decisioni e prende atto di chi deve rimanere e chi non deve rimanere. La società sa chi ha voglia di rimanere. Noi abbiamo manifestato tutti quanti la volontà di rimanere, quindi aspetteremo il momento decisivo quando ci sarà da parlare. Ecco, ma a tuo avviso dopo questo annuncio della società che le conferme dei segni lo saranno presso a poco, riguarderanno il 90% dei giocatori, ritieni sia così facile poi di venire a un accordo nel momento proprio della trattativa? Ma guarda, per quanto riguarda non c'è nessun problema conoscendo sia la società, la piazza e i personaggi che rappresentano questa società, quindi per quanto riguarda l'accordo sarà una cosa formale, quindi basteranno pochi minuti per ritrovare l'intesa. Che Campobasso ci dobbiamo aspettare in Serie D? Sicuramente una squadra integrata da altri senior e con tanti fuori quota perché lo richiedono proprio le norme della quarta serie. Sì, è normale, quest'anno dovremmo giocare con quattro under, quindi ci saranno più senior, è normale, però già abbiamo un'ossatura, se la società ritiene l'opportunità di tenere questa ossatura, quindi già abbiamo un gruppo già mal agamato e chi verrà sarà ben accettato dal nostro gruppo. Senti, vediamo che non esiti a venire quando sei invitato dalla Calabria a cui sono tanti chilometri, quindi sei a tutti gli effetti un Campobasso no d'adozione, stai bene a Campobasso? Sì, a stare bene sto bene, poi se tutto va bene il prossimo anno è il quarto anno, il quinto in Molise, quindi alla fine manca poco per la residenza ufficiale. Ti devi sposare anche in Molise? Ancora presto. Ad Agnone ore decisive per la nomina del nuovo presidente, possibile un colpo di scena con una soluzione interna, il nuovo Patron potrebbe portare con sé anche diversi nuovi soci. Questa sera ultimo incontro per stilare l'organigramma societario 2014-2015, c'è stato anche un colloquio con Corrado Urbano, per la sua riconferma la volontà c'è ma bisogna attendere la nomina del presidente. Automobilismo ieri alla 29esima edizione dello slalom di Salerno Croce di Cava, Fabio Emanuele della Campobasso Corse ha tagliato per primo il traguardo al secondo posto Venanzio, terzo esposito. Adesso un mese di stop per il campionato italiano slalom il 6 luglio, la quarta tappa, con la nona edizione del Maxi Slalom Colle San Bartolomeo. Calcio giovanile, ieri il Civitelle di Agnone ha ospitato la quinta edizione del torneo nazionale Agnone-Latene del Sannio. In finale il San Nicolò ha superato di misura il Celano. Una giornata di sport dove protagonisti al Civitelle sono stati classe 97-98, sei le società di cui quattro di fuori regione che con le loro formazioni allievi hanno preso parte al quinto torneo nazionale Agnone-Latene del Sannio. Un'organizzazione impeccabile per il presidente del settore giovanile dell'Olimpia agnonese Fernando Sica ed il suo staff. Le sei squadre sono state divise in due gironi. Al mattino la fase di qualificazione, nel pomeriggio le finalissime. Al San Nicolò la vittoria del torneo. La formazione teramana ha superato di misura il Celano. Terzo posto per la Renato Curi Angolana che sempre con il risultato di 1-0 ha relegato al quarto posto il Lucera. Quinto piazzamento per l'Olimpia agnonese che ha messo KO 1-0 il Fortuna Calcio. Al Civitelle sono scesi in campo degli under interessanti che potranno essere utili per le squadre di Serie D pronte a scendere in campo nel torneo Juniores nazionale. Ad Agnone lascerà la maglietta granata per indossare quella giallorossa della Roma Basilio Antonelli. Il giovane attaccante classe 2000 scuolo limpia agnonese da tempo opzionato dalla Roma di Bruno Conti è pronto ad indossare anche la fascetta da capitano. Ai nostri microfoni proprio Fernando Sica. Vediamo. Sì, grandissima soddisfazione. Veramente siamo al terzo appuntamento perché abbiamo iniziato il 12 maggio con un raduno dei piccoli amici in cui hanno partecipato circa otto società. Poi abbiamo fatto il meeting con l'amicizia con una squadra di Roma, il Grotta Ferrata con la precisione, poi è venuto la San Leucio e l'Olimpia. Poi abbiamo fatto il torneo delle piccole glorie e adesso siamo a questa edizione della quinta torneo allievi dell'Atene del Sagno. L'Atene del Sagno perché Agnone è sempre e sarà l'Atene del Sagno. Giornata importantissima per i ragazzi che possono dimostrare la loro abilità sul campo, sugli spalti ci sono anche degli osservatori abbastanza importanti e potrebbero finire a giocare in qualche squadra importante. L'Agnone come se la sta cavando? L'Agnone se la sta cavando abbastanza bene. Dopo un inizio in Sordina stiamo rimontando e i nostri giocatori migliori tipo Lavornia, il nostro gioiellino Antonelli, anche se è una classe 2000 che oggi darà l'aldio al calcio agnonese per poter approdare nel mese di agosto. L'altro ieri abbiamo firmato la convenzione con Prudoconde che lui si scusa con i nostri tifosi e i nostri giocatori per non aver potuto partecipare perché era in programma la sua partecipazione però all'ultimo minuto è stato chiamato per una finale di un torneo a cui purtroppo non ha potuto dire di niente. Però in compenso abbiamo una cornice di pubblica bellissima, la giornata è favorevole, abbiamo il nostro mister urbano che per il quarto anno consecutivo ci darà una mano in serie D e poi abbiamo numerosi genitori a seguito con grande calore e grandi appassionati. Speriamo che il torneo vada nel migliore dei modi come è sempre stato e il mio aspug è che vinca sempre lo sport che è l'obiettivo primario per questa nostra società che due sono gli obiettivi dello sport è far conoscere il nostro territorio di cui noi abbiamo fortemente bisogno di far conoscere la nostra soprattutto ospedalità, le nostre bellezze artistiche e culturali. Prima c'è stato anche qualche momento di tensione ma non tra i ragazzi, tra gli adulti, in questo caso sono i giovani che danno l'esempio ai grandi, tutto rientrato naturalmente non è successo nulla di grave però insomma quando c'è l'agonismo queste cose non mancano mai. Eh certo, alla fine deve preparare il buon senso e la ragione, altrimenti non facciamo una squadra di calcio, non facciamo calcio ma facciamo un'arena tipo corrida ma questo non deve succedere perché la società olimpia agnonese si è fatto un nome, non a caso, non a caso noi abbiamo avuto il primo campo senza barriere, non è che ce l'hanno dato per votazione ma ce l'hanno dato per i merdi organizzativi soprattutto perché nel nostro campo non avvengono mai distrutti. Equitazione, la Ipoform Campobasso ha ospitato il campionato regionale di salto ad ostacoli, ottimo risultato per Melissa Messere, portacolori della scuderia, il ginepro di Isernia, la mazzone di soli 14 anni in sella a True Fly ha centrato in pieno l'obiettivo ottenendo il primo successo importante della sua carriera nella categoria brevetti esordienti. A proposito della società organizzatrice, ai nostri microfoni Michele Ruscito. Siamo con Michele Ruscito, istruttore e proprietario di questo splendido impianto Lippoform, si sta per svolgere un concorso che vede anche una corso ostacoli, come si svolge questa amministrazione? Si sa che partecipano anche parecchie coppie di cavalli e ragazzi. Sì, questa è una manifestazione di interesse regionale perché ospita i campionati regionali molise di salto ostacoli per la categoria Juniores e anche per la categoria Assoluta. E comprende anche invece delle categorie Open dove partecipano anche dei binomi di fuori regione. La partecipazione devo dire che per i numeri del Molise è piuttosto ampia, nel senso che ospitiamo tutti quanti i binomi che fanno agonismo del salto ostacoli dell'equitazione molisana. E devo dire che l'impegno è notevole per tutti quanti ma che stanno preparando per questa gara in maniera veramente intensa e quindi penso che verrà sicuramente una bella manifestazione. L'equitazione è uno sport, possiamo dire che si sta evolvendo, ci si avvicina anche da età molto piccole ai cavalli. Sì, noi facciamo attività anche con i ragazzi di quattro anni attraverso l'utilizzo dei poni, quindi di cavallini molto piccoli. E questo li permette attraverso il gioco di imparare a cavalcare e quindi per chi vuole anche di fare agonismo e per poi arrivare a livello un pochettino più elevato nel salto ostacoli e quindi l'agonismo. L'attività futura invece che vedrà l'ippoform protagonista? Devo dire che noi ormai non abbiamo più pace nel senso che gareggiamo continuamente durante tutto l'arco dell'anno e abbiamo praticamente nel periodo invernale ci ospitano degli impianti indoor che però sono generalmente ubicati nel nord Italia. Quindi abbiamo fatto il periodo invernale al nord Italia. Adesso invece ci stiamo spostando nelle zone del centro e infatti fra un mese partiranno i campionati nazionali che saranno per quanto riguarda i poni, Roma come ubicazione e invece per quanto riguarda i cavalli in Umbria, Narni praticamente. Giulia Calabrese, Fiorella Colanzi, Caterina Angioglu, Federica Caruso, Patrick Comodo e Nicola Del Papa. Basket, il mini basket del CUSS ha concesso ai piccoli il rompete le righe. È stato un anno intenso per lo staff guidato da Tania Ferrazza. Numeri in crescita che testimoniano il buon lavoro che lo staff tecnico sta svolgendo ai nostri microfoni Pier Carmine Avarello. Pier Carmine Avarello, hai collaborato con Tania Ferrazza con il mini basket del CUSS Molise da tirocinante, diciamo. In cosa avete collaborato proprio con il coach? Sì, ho passato tutto l'anno a collaborare con Tania come tirocinante dell'Unimol, ho collaborato sia negli allenamenti dei bambini, anche quest'anno ci siamo cimentati nel primo campionato che hanno fatto gli esordienti. È stato un anno molto bello, fare questa esperienza di allenatore mini basket assieme a Tania, fare anche l'esperienza di fare il primo campionato con i loro bambini. Ecco, come diceva Tania, basket è più un'impostazione motoria, riguarda anche la vostra facoltà, quella di scienze del benessere. Eh sì, il basket secondo me è uno degli sport molto fondamentali pure perché permette di sviluppare molto le capacità motorie di un bambino nei suoi riflessi, nelle sue capacità cognitive, motorie, quindi un po' di tutto. Dunque è stato un anno di crescita possiamo dire anche per te, oltre che lavorativamente, ma anche per stare a contatto con tutti questi bambini. Sì, hai detto giusto, è stato un anno di crescita sia per me che per tutti, per me fondamentalmente perché intanto sono un ex giocatore quindi è stato fondamentale pure essere a contatto con i bambini per in futuro diventare anche un allenatore di basket, quindi cominciare dall'approccio con i bambini e spero di arrivare anche su in alto. Atletica le fasi nazionali dei campionati studenteschi che si sono svolti all'Aquila, bilancio positivo per la rappresentativa del CIP Molise che ha portato a casa una medaglia di bronzo e tre piazzamenti. Terzo posto per Serena Napoletano in rappresentanza dell'Isis Cuoco Fascitelli di Isernia nella gara del lancio del peso di tre chilogrammi categoria allieve. Ottime performance per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Montini di Campobasso che si sono attestati al quinto posto con Eliana Antoniani nel salto in lungo, al dodicesimo posto con Emanuele Russo nel lancio del Vortex e poi al decimo posto con Antonio Martino negli 80 metri piani. Calcio regionale, il Real San Martino sta già lavorando per il prossimo campionato in promozione. La stagione è andata in archivio ufficialmente con il triangolare del Rosso dove gli adriatici hanno perso entrambe le partite. Ai nostri microfoni il tecnico. Siamo con Leo Tanga, mister del Real San Martino, doppia sconfitta che però non fa tanto male. No, assolutamente, siamo venuti a fare questa festa, diciamo così, viene da ridere perché sono state due partite dominate a tirassegno, soprattutto la seconda, è stato veramente un tirassegno, il rigore è sbagliato. Il portiere l'abbiamo colpito non so quante volte, anche nella stessa azione, va bene, comunque un applauso ai ragazzi, siamo venuti dopo un mese di festeggiamenti a onorare questo triangolare come è giusto che sia e anche con lo spirito giusto, insomma. Dispiace perché poi alla fine vedi quando vai in campo, vuoi vincere, però più che altro abbiamo fatto una bella figura perché abbiamo giocato veramente bene. Anche perché l'obiettivo primario vostro era vincere il campionato di prima categoria, ci siete riusciti, adesso si volta a pagina, si pensa all'anno prossimo, campionato di promozione, campionato difficile. Sì, l'obiettivo primario essenziale era quello e anche se avevamo anche la Coppa e per come siamo usciti c'è stata insomma parecchia amarezza per degli errori insomma discutibili, però l'obiettivo l'abbiamo centrato, infatti ragazzi dopo quell'obiettivo ci siamo letteralmente rilassati. Però era giusto onorare questo triangolare, ora ci fermiamo per qualche settimana e ragioniamo come organizzare la prossima stagione. Si organizza questa stagione ovviamente con te in panchina? Diciamo nì, perché la società comunque deve fare la riunione finale, noi abbiamo anche il settore giovanile, vediamo quali sono anche gli obiettivi per poi insieme si deciderà il da farsi. Invece che camminato vuole fare l'anno prossimo questo camminato di promozione? Come avevi detto tu, difficile, camminato a salvezza tranquilla ovviamente. Sì, io per questo aspettiamo un attimo questa riunione con la società, vediamo quali sono gli obiettivi, questa squadra ha un organico già valido di per sé, bisogna appunto dargli i giusti innesti in qualche reparto, più c'è il discorso degli under, quindi con degli innesti giusti io penso che possa togliersi diverse soddisfazioni per l'anno prossimo. E' stato Giacomo Piccolo a regalare alla Petacciatese il gol della salvezza in casa del Campobasso Calcio, condannato alla finale play-out con L'Angioina Colletorto per i gialloneri, proprio il match winner. Giacomo Piccolo, l'autore del gol che dà la salvezza alla Petacciatese, una partita sempre in equilibrio ma alla fine siete riusciti a spuntarla senza dover passare per i supplementari? Giacomo Piccolo, è stata una vittoria sofferta perché noi qua per come lo spessore della squadra non ci saremmo proprio dovuti arrivare a disputare questi play-out, però è stata una stagione più di bassi che di alti e quindi eccoci qua. Ma la caparbietà e le persone che ci sono sempre state vicine, hanno sempre creduto nei nostri mezzi, ci hanno portato a raggiungere la salvezza. Diciamo che voi comunque come obiettivo eravate partiti per la salvezza, forse una salvezza mirata più a guardare medio-alta classifica, poi qualche risultato altalenante e anche il cambio di mister vi ha dato un'altra vitalità? Sì, diciamo che siamo partiti un po' malino, colpa di una preparazione che ci ha fatto esplodere troppo in ritardo, ecco qua. I risultati infatti all'inizio non sono arrivati, poi il cambio dell'allenatore, però quando si parte male è difficile risollevarsi, anche perché poi quando stai laggiù, anche quando incontri le squadre di alta classifica, vieni visto anche dagli albitri, non sempre ti vengono a favore, però quando è l'incertezza fischiano sempre per le squadre di alta classifica, ecco, questo è il discorso. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso dopo questa salvezza per l'anno scorso, abbiamo parlato con il presidente e con l'allenatore che vogliono ricostruire la petacciatese e riportarla in alto nei campionati, partendo da questa base di giocatori che secondo loro è ottima? Io lo spero, spero che il gruppo continui ad esserci e che si lavori per migliorarsi sempre ogni anno, ora non so perché io tra virgolette sono un forestiero, vengo da Termoli, gioco a Petacciato, però ormai Petacciato è entrata nel mio cuore, quindi mi sento di Petacciato. Spero che resteremo questi, poi ovviamente qualche innesto ci dovrà essere. Il primo Junior Day con Pulcini e Primi Calci, sui progetti della società, il tecnico Nugnes. Massimiliano Nugnes, istruttore per la scuola calcio dei San Miti, insomma sempre impegnato nel calcio in prima persona e poi insomma anche adesso con questi bimbi. Quanto è bello, importante per i ragazzi partecipare a giornate come questa? È una cosa molto importante per i bambini perché comunque anche la giornata è così, su un campo in questo modo insomma è spettacolare per loro giocare, si rivedono un po' come i giocatori in televisione. Poi una manifestazione con tante scuole calcio, insomma sicuramente è bello vedere tutti questi bimbi che giocano. Poi ecco io cerco di dedicare il tempo a loro perché comunque i bambini ti danno gioia, quindi questa è la cosa principale. I bambini sicuramente traggono tanto da manifestazioni come questa, voi invece istruttori magari vi guardate anche attorno, vedete anche come lavorano i vostri colleghi, insomma è anche un monito a fare sempre meglio. Sì, quello sicuramente, poi io dico sempre una cosa che un istruttore più vede in altre scuole calcio e più apprende le cose, quindi sicuramente quello è il miglior modo per imparare e per insegnare poi ai giovani calciatori, ai piccoli bimbi, questi sono proprio la categoria di piccoli amici, quindi la categoria è più piccola, vanno dai 5 agli 8 anni, insegnare le cose giuste, che siano quelle proprio inelente a tutto quello che è lo sport, dall'aspetto educativo all'aspetto calcistico proprio. Qual è l'elemento imprescindibile per poter giocare a calcio? Prima di tutto è piacere, il calcio deve piacere, seconda cosa tutti lo possono praticare, poi naturalmente c'è chi è meno bravo e chi è più forte, però tutti lo possono praticare, sicuramente ecco le doti atletiche fanno sì che qualsiasi bimbo possa praticare lo sport in genere. Non sono voluti mancare gli amici e gli ex compagni di squadra di Gianluca Fuso in occasione del primo Memorial ad un anno dalla scomparsa, un triangolare e poi un concerto per raccogliere fondi da destinare all'associazione italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ai nostri microfoni Antonello Paolo Antonio. Tanti amici che si sono stretti sono arrivati da tante parti d'Italia, insomma al tuo invito, a quello naturalmente di voi che avete organizzato hanno risposto presente al secondo diciamo? Questo la dice lunga sulla persona di Gianluca perché ovviamente quando abbiamo lanciato l'invito hanno risposto presente tutti quanti e segnalando oltre quelli del posto vogliamo segnalare da fuori Simone Deliperi che è venuto dalla Sardegna con il quale abbiamo stretto un'amicizia nel 97 e portare avanti l'amicizia calcistica nel corso degli anni a distanza di 15-16 anni di certo non è semplice, questo è una testimonianza ovviamente dell'affetto che abbiamo regato. Poi c'è Nicola Ziccardi che è venuto dalla Germania, Omar Di Bianco da Roma, Mauro Basilico da fuori, Dario D'Acunto, Chetarici, ne sono tantissimi. Ho nominato quelli che sono venuti da fuori, è palese l'affetto che stiamo dimostrando a Gianluca. Ecco, quello che ho notato è che c'è stato un momento nel ricordo, sicuramente anche commovente, ma devo dire che tutti lo hanno fatto con il sorriso perché, come dicevamo, è stato questo forse l'arma in più, tra virgolette, se me lo lasci passare, di Gianluca ed è stato il light motive, possiamo dire, del suo ricordo, ovvero più un sorriso che un ricordo negativo per quella che è stata la parte finale della sua vita ma devo dire che il sorriso ha accompagnato tutti. Parole giustissime, infatti lo spirito della manifestazione non era una commemorazione, volevamo ricordare Gianluca con il sorriso così come avrebbe fatto lui, il suo sorriso era coinvolgente, lo ricordiamo tutti con il sorriso, oggi speriamo di aver portato il suo sorriso in campo e questo deve essere lo spirito della manifestazione, purtroppo non c'è più e dobbiamo ricordarlo così come lui era. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport, buon pomeriggio. Grazie a tutti.